Ciao bianconeri, giovedì 1 luglio 2021 è appena conclusa la conferenza stampa che ha visto protagonista assoluto il nostro presidente Andrea Agnelli affiancato da Pavel Nedved, da Federico Cherubini e da il nuovo amministratore delegato Maurizio Arriva Bene. Cerco di riassumervi un po' i temi della conferenza stampa dandovi anche i miei commenti qualora ve la siate persa. Sicuramente i temi sono stati quattro, l'aumento di capitale, la Superlega, il futuro di Ronaldo e il futuro di Dybala. Io ho preso degli appunti quindi concedetemi di leggere per dirvi i contenuti di questa conferenza stampa che è stata fatta per presentare il nuovo staff sportivo della Juve che quindi cambia totalmente ciclo dopo dieci anni abbiamo dei volti nuovi o più o meno nuovi insomma che comunque hanno sempre ruotato come arriva bene nel mondo della Juve che è sempre stato nel CDA ma era impegnato soprattutto in altre attività tipo in Ferrari. Ha esordito il presidente Agnelli carichissimo e precisissimo come sempre, ha parlato innanzitutto di questo aumento di capitale che andrebbe a coprire un aumento di capitale di fino a 400 milioni, questo l'abbiamo già detto ieri è uscita la notizia ufficiale, 400 milioni che saranno raccolti tramite le banche e saranno poi progettati, cioè le spese, come spendere questi soldi sarà deciso a settembre durante l'assemblea degli azionisti. Questi soldi servono, non servono per il mercato, questo che sia chiaro a tutti, la Juve non avrà 400 milioni di euro per comprare Messi, Mbappé, Holland? No, no, assolutamente, perché qualcuno di voi so che l'ha capita così, no, la Juventus affronterà 320 milioni di perdite nel triennio 19-22, quindi a giugno 2022 le perdite totali della Juve saranno di 320 milioni, ovviamente la pandemia è stata la causa principale di queste perdite, quindi 400 milioni servono a coprire le perdite e rilanciare la Juve in quello che era il progetto del 2019, quando nel 2019 è stato deciso il primo aumento di capitale, perché non è la prima volta che succede, è stato fatto un aumento di capitale i primi mesi del 2020 e poco dopo siamo entrati in lockdown, cosa che ha completamente bloccato lo sviluppo della Juve. Chissà quale era il progetto sportivo della Juve in quel momento? Nessuno mi leva dalla testa che la Juve avesse intenzione di prendere un top player pauroso, anche grazie a quell'aumento di capitale, cosa che ovviamente poi non è stato possibile fare. Agnelli ha spiegato che secondo le stime della UEFA la necessità liquida di tutto l'indotto calcio europeo è di 8 miliardi e mezzo. Di questi 8 miliardi e mezzo il 30-40% sarà in missione di capitali, come ha fatto la Juve, come ha fatto l'Atletico Madrid, come ha fatto la Roma per esempio. Il 30-40% sarà debito, quindi prestiti chiesti alle banche come ha fatto il Barcellona, come ha fatto l'Inter, come ha fatto il West Ham o il Porto e il restante 20-40% che coinvolge 120 club europei che sono a rischio in solvenza. Questa è veramente una situazione molto molto grave, quindi a rischio in solvenza significa che magari qualcuno di questi 120 club rischia di saltare per aria, di andare in fallimento. Poi ha parlato della lettera della UEFA che autorizza tra virgolette la Juve a partecipare alla Champions League. Qua i commenti di Agnelli sono stati fantastici, molto schietti. Prima di tutto ha riconfermato la volontà di dialogo con la UEFA. La seconda cosa che ha detto è che la Juve non ha nessuna paura delle minacce, testuali parole. La terza cosa ha detto che la loro azione legale avrà dei risultati soddisfacenti. Questa è la determinazione del nostro presidente. Poi ha presentato Nedved parlando, spendendo delle buone parole su tutto quello che ha fatto in questi anni. La stessa cosa su Arrivabene l'ha presentato facendo una sorta di storia e curriculum di Arrivabene. Poi ovviamente Cherubini, nominandolo come Football Director, quindi responsabile di tutte le squadre della società Juve, quindi la prima squadra, la primavera, l'Andera 23, la femminile, tutte le squadre faranno capo a Cherubini. Ha parlato poi Arrivabene, interventi molto brevi, molto pacato, quasi sottovoce, con forte accento bresciano. Poi ha parlato Cherubini, dice, e qua arriviamo al tema Ronaldo perché la prima domanda è stata questa, non c'è nessun segnale, dice Cherubini, da parte di CR7 né da parte della Juventus di un addio. Il 14 luglio conferma inizierà il ritiro, mancheranno sicuramente ancora tanti nazionali. Poi il buon Gianni Balzarini fa la domanda fatidica sulla Superlega al Presidente Agnelli. Agnelli che risponde dicendo che sì, sicuramente alla Champions del 21-22 la Juve parteciperà. Poi vedremo. Perché poi vedremo? Perché ha citato la sentenza della Corte di Giustizia europea che potrebbe esprimersi sulla posizione dominante della UEFA. Insomma, secondo me, questa è la mia sensazione perché Agnelli non ha detto espressamente questa Champions che verrà, la faremo, ma magari dal 2022 finalmente partirà qualcos'altro, che sia la Superlega, che sia una competizione diversa, perché questo è quanto trapela un po', secondo me, dalle parole di Andrea Agnelli. E poi sono curioso di capire lo stesso Balzarini, che sicuramente farà un video sul suo canale, avendo avuto la risposta alla sua domanda, vediamo se l'ha capita come me. Agnelli ha concluso questo intervento sulla Superlega dicendo che secondo lui la sua posizione, che si è dimesso immediatamente quando è uscito il comunicato della Superlega, è stata corretta e poi ha riconfermato la stima come persona verso Ceferin, che comunque rimane il padrino di sua figlia. Cherubini ha risposto alla domanda di Agresti riguardo al mercato. Ha detto che sicuramente la Juve dovrà rivalutare i giocatori che rientrano dai prestiti e l'organico attuale. Ha usato la stessa solita frase di Paratici, che ci ha sempre lasciato un po' basiti, cioè la squadra è già competitiva così com'è. Io penso che siano frasi di circostanza e non potrebbe dire altrimenti, non potrebbe dire la nostra squadra fa cagare. Cioè, ragazzi, entrerebbe nella storia, no? Oppure abbiamo un centrocampo di merda. Non lo può dire, ma anche volendo sicuramente non lo pensa. Però adesso sto andando un po' nel paradosso. Cherubini ha detto che sicuramente valuteranno opportunità per migliorare. Ha detto che devono valutare i parametri tecnici, ma anche il piano progressivo finanziario, cioè capire un attimo gli investimenti progressivi. Insomma, in poche parole, non aspettiamoci tutto subito. Dobbiamo anche vedere la crescita dei giovani che sono degli investimenti su cui abbiamo fatto delle spese grosse. Immagino De Ligt, Chiesa, Kuluseski, McKennie, tutti questi giovani che la Juve si aspetta che crescano in tutti i sensi. Ha detto una frase che lascia un po', insomma, un po' con l'amaro in bocca a noi appassionati calciomercato. Dice che quello della Juve non sarà un mercato molto attivo. Ha usato queste parole. Ragazzi, sono grande abbastanza per sapere che non è detta l'ultima parola. Non è che quello che mi dice un dirigente in televisione o in una conferenza, ah, allora è così. Quindi sicuramente, sicuramente dobbiamo aspettarci che non sarà un mercato dove la Juve comprerà il top player da 200 milioni, scordiamocelo, neanche quello da 100 milioni, scordiamocelo, ma non credo proprio che la Juve non sfrutterà le opportunità di mercato. Tra l'altro, nessuna domanda su Manuel Locatelli, nessuna, che sembra essere, lo sappiamo, il giocatore più vicino alla Juve, sempre inerente al mercato. Andiamo avanti. Agnelli ha detto una cosa molto interessante. Il progetto della Juve è quello di ritornare e copiare, tra virgolette, il ciclo 2013-2019. Ha proprio identificato questo periodo, questo lasso di sei anni, quei sei anni in cui la Juve ha vinto sul campo, ha fatto due finali di Champions e il fatturato era costantemente in crescita. Tanto che poi Ronaldo è stata la ciliegina sulla torta, tanto che poi nel 2019 l'aumento di capitale doveva servire a affermarsi definitivamente nel panorama internazionale. Ma poi sappiamo come sono andate le cose col Covid. domanda quasi inutile a Cherubini su cosa gli hanno lasciato Marotte e Paratici. Dice che di Paratici ruberebbe la passione quotidiana che ci metteva per il suo lavoro tutti i giorni. Agnelli ha detto una cosa molto interessante, che oltre ai quattro lì presenti, ovviamente ci saranno nuovi innesti in dirigenza in vari settori, anche finanziari, eccetera, o gestione del personale. Extracalcio, ecco ha usato questo termine, cioè presi fuori dal mondo dell'industria del calcio, la chiama l'industria, ma lui quando parla di industria parla del calcio. Extracalcio, come arriva bene? Per dare idee nuove, una visione nuova. Nedved ha detto che il DNA Juve è disciplina e lavoro. Agnelli ha detto anche ordine e disciplina, che ci ricorda un po' fasti poco piacevoli del nostro passato italico. Agnelli poi su, attenzione, su CR7, questo è un messaggio che io voglio dare a tutti gli anti-Ronaldo che ci sono sul mio canale, che commentano che Ronaldo è stato un disastro, una tragedia finanziaria. No! Io ve l'ho già detto in tanti i miei video. A conti fatti, l'operazione Ronaldo è in positivo. Da un punto di vista finanziario, ci è costato un sacco di soldi, ma ne abbiamo guadagnati di più. Questa cosa non la capite. E lo stesso Agnelli l'ha detto. L'NPV è positivo dell'operazione Ronaldo. Ok? Ha detto che non nega che magari in futuro possono esserci altre operazioni che non sono prettamente tecniche, ma anche di contesto. Ha fatto come CR7. CR7 non è solo una cosa tecnica, ma è anche, insomma, un personaggio che ci ha portato immagine, brand, e lo sapete benissimo. Ha fatto l'esempio molto interessante di McKennie. Ha detto per esempio McKennie, che lui è attivo in temi sociali dove, sostanzialmente, la Juve è sempre stata molto impegnata. Quindi di McKennie non ha detto abbiamo preso McKennie perché è americano e vendiamo le magliette negli Stati Uniti. No! Ha detto perché McKennie è sempre molto attivo in quei temi sociali, antirazzismo eccetera eccetera, di cui la Juve si fa promotrice. Domanda su Dybala al buon Cherubini, anzi ha risposto Nedved in realtà. Nedved dice che Rubini è in costante contatto col giocatore e col procuratore Antun. Adesso è a Miami. Sarà il primo a ritornare per il ritiro perché non ha la Coppa America da disputare. Quando ritornerà riprenderemo da dove ci siamo fermati. Cherubini su Allegri dice che è voglioso di allenare e lì sarà il focus di Allegri. Dice che ovviamente c'è sintonia e confronto tra Cherubini ed Allegri per la visione di come costruire la Rosa. Riconferma CR7 al centro del progetto dicendo ovviamente non ho la sfera di cristallo per dire cosa succederà nel prossimo futuro. Ovviamente perché nemmeno Cherubini ha la conferma in questo momento al 100% che Ronaldo vuole rimanere e rimarrà. Finisce la conferenza Agnelli che parla del canale televisivo della Lega che non è mai partito perché tra di loro non si mettono d'accordo. E poi quello che vi stavo dicendo prima che voglio ricordare perché secondo me è molto interessante. Vogliono ripartire con questo aumento di capitale di 400 milioni che non è immediato. Ricordo che è l'idea. La decisione ed è stata ufficializzata. Ma i soldi e come saranno spesi sarà deciso a settembre. Vogliono con questa operazione riprendere la progettualità che c'era nel 2019. Cioè fare la Juve più grande. Fare la Juve uno delle squadre più importanti da un punto di vista internazionale. Questa secondo me è una grandissima cosa e dobbiamo essere molto fieri di essere gobbi. Juventini perché a differenza di altre squadre anche italiane abbiamo alle spalle una società che è la Exor e una famiglia che è Agnelli barra Elkan che amano la Juve. La considerano un asset importantissimo, non una ruota del carro. Un asset che porta comunque dei guadagni, porta visibilità e assolutamente dobbiamo stare tranquilli. Sappiamo benissimo che tutti i tifosi vogliono e sognano una squadra di super campioni. Forse dobbiamo avere un po' di pazienza. Forse magari qualche campione lo dobbiamo costruire anche in casa, come si faceva una volta alla Juve. E sperare di ritornare a vincere. Prima di tutto in Italia, ma di ritornare anche ai fasti, pochi, delle vittorie europee. Ragazzi io vi ringrazio, vi aspetto stasera per un video Q&A, cioè domande e risposte. E poi domani ovviamente per il post partita di Italia-Belgio. Ragazzi vi abbraccio e sempre Forza Juve!